L'Italia farà tutto il possibile per chiarire le circostanze che esattamente un mese fa in Congo hanno portato all'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo. Lo ha ribadito oggi il rappresentante italiano presso le Nazioni Unite intervenendo al Consiglio dei Diritti Umani. Per far luce sul lagguato avvenuto nel nord-est del paese poco lontano dalla città di Goma ci sono tre inchieste, quella della Procura di Roma che grazie al lavoro svolto sul posto del Rosso dei Carabinieri ha ricostruito la dinamica stabilendo che Mustafa Milambo è stato giustiziato subito dal commando che voleva sequestrare gli italiani e che Attanasio e Iacovacci sarebbero stati colpiti poco dopo dai sequestratori nel conflitto a fuoco con i ranger del parco Biruga che volevano liberarli. La seconda inchiesta, quella delle autorità congolesi ha subito un brusco stop per l'assassinio il 4 marzo scorso del procuratore militare caduto in un agguato nella stessa zona dove sono stati uccisi gli italiani. La terza inchiesta è quella delle Nazioni Unite che dovrà chiarire in particolare le falle del sistema di sicurezza. I risultati sono stati consegnati due giorni fa alla Procura di Roma e secretati. Intanto il Consiglio dei Ministri ha avviato il procedimento per concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali alla vedova di Attanasio, Zakia Seddiki che con la sua associazione umanitaria era impegnata a migliorare la vita di donne e bambini in difficoltà in Congo.